Buongiorno, benvenuti a Milano Pavia News. Apriamo questa edizione con il racconto di un fatto di cronaca molto grave avvenuto in mattinata a Buccinasco. Un omicidio, e tutto fa pensare che sia un omicidio ricollegabile alla criminalità organizzata. È successo attorno alle 10 di mattina in via della Costituzione. Questa è un'immagine che c'è appena arrivata. Il collega Stefano Galimberti si trova in questo momento sul posto, ha raccolto le primissime informazioni. Lo ribadiamo attorno alle 10 in via della Costituzione. Un uomo è stato colpito da colpi di pistola. Si tratta di Paolo Salvaggio, 60 anni. Un pregiudicato finito in passato al centro di inchieste per il traffico di droga legato alla criminalità organizzata. All'andrangheta, ma non solo. Secondo quanto riportato dalle agenzie, stava passeggiando a bordo della sua bicicletta. E dall'immagine, vedete che da sola l'immagine conferma questo particolare. Cioè che la vittima era a bordo della sua bicicletta quando sarebbe stato raggiunto da due persone in moto. Uno dei due motociclisti gli avrebbe sparato tre colpi di pistola colpendolo al volto e a una spalla. All'arrivo dei soccorritori, Paolo Salvaggio era in arresto cardiocircolatorio portato in pronto soccorso all'Umanitas di Rozzano e morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Le modalità dell'agguato, l'abbiamo detto, rimandano a uno stile mafioso. La pista che starebbero seguendo gli inquirenti è quella del regolamento di conti. Sul posto, come vedete, ci sono i carabinieri che stanno effettuando i rilievi. Se ci fossero ulteriori particolari che venissero appurati nel corso di questa edizione, ve ne daremo immediatamente conto. Adesso le altre notizie. Ci sono reazioni naturalmente anche a Milano per la durissima serata di sabato per i cortei no green pass non autorizzati. A Roma e a Milano, molto più lento quello di Roma, anche quello di Milano però ha causato problemi. Ci sono dei provvedimenti decisi dalla polizia, naturalmente molte reazioni politiche. Andiamo a collegarci con Milano, con Giovanni Di Milone e gli amici. Buongiorno Giovanni. Sì, buongiorno Paolo, buongiorno a tutti i telespettatori. Noi siamo in via Vittor Pisani, quella che vedete alle mie spalle è la stazione centrale, perché proprio qui nella serata di sabato il popolo dei no green pass, almeno quello che rimaneva della grande manifestazione non autorizzata, che come ormai da diverse settimane prende il via dal centro della città, dicevamo che i manifestanti hanno cercato di sfondare gli accessi della stazione centrale senza poi riuscirvi per l'intervento della polizia che ha caricato i manifestanti per bloccare il traffico dei treni. Dopodiché i manifestanti sono tornati lungo questa strada per tornare verso il centro. Ma come dicevi giustamente ci sono state dure reazioni, importanti reazioni da parte del mondo delle istituzioni, ma anche ovviamente della magistratura. Infatti il bilancio della serata è stato di un arresto e di 57 denunce. Per quanto riguarda l'arresto si tratta di un milanese di 25 anni che è stato fermato alla stazione della Metropolitana Rossa di Porta Venezia dopo che davanti ai cancelli della stazione centrale aveva colpito con violenza un poliziotto, poliziotto a cui sono stati dati sette giorni di prognosi per il colpo ricevuto. Per quanto riguarda i denunciati invece va detto che buona parte di questi 57 fa riferimento alla galassia anarchica di Milano, una matrice dunque tendenzialmente di estrema sinistra e ben diversa da quella che invece si è vista guidare il popolo dei No Green Pass, lo stesso popolo dei No Green Pass a Roma nell'assalto alla CGL, sempre sabato pomeriggio, un assalto che ha portato poi all'arresto di diverse personalità tra cui spiccano i leader nazionali e romano di Forza Nuova, la formazione di estrema destra. Proprio per contestare l'assalto alla CGL, la manifestazione romana si è tenuta in diverse piazze italiane e anche a Milano un presidio a sostegno della CGL, a Milano ieri ha partecipato anche il sindaco Sala che ha chiesto una presa di posizione chiara ai partiti della destra, queste sono le sue parole. Io l'ho detto mille volte, manifestare è un diritto, è va tutelato, ma c'è modo e modo. Allora, se tu ti fai guidare da evidenti nazifascisti, accetti quel tipo di guida. Voglio parlare politici, sono molto, molto, molto d'accordo con quello che dice di nuovo Massimo. Certe parti politiche devono fare atti, non interviste. Perché è evidente che a Milano e a Torino sono stati eletti persone con una matrice fascista. È evidente che vedere quelle persone nei cucini comunali di Milano e di Torino non è una cosa che le città possono accettare. Lo ridico, l'ho detto ieri. A chi guida partiti che strezzano l'occhio a certe forze, noi ci aspettiamo una presa di posizione chiara, chiara. Basta interviste, basta interviste, ma azioni. È una dura condanna, è arrivata ovviamente anche da parte del Partito Democratico Nazionale, che in Senato ha depositato una mozione per chiedere lo scioglimento di forza nuova per l'appunto, ma sul fronte milanese è arrivata invece un'altra proposta che farà sicuramente discutere, è arrivata da Fratelli d'Italia, nello specifico dal coordinatore cittadino Stefano Maullu, che ha spiegato come nel primo consiglio comunale, nel primo nuovo consiglio comunale che si andrà a riunire nei prossimi giorni, i cinque consiglieri eletti di Fratelli d'Italia proporranno una mozione che equipari, metta sullo stesso piano di fatto, fascismo, nazismo e comunismo. Insomma, una proposta che sicuramente farà discutere, noi vi daremo conto ovviamente dello sviluppo di queste vicende. Per il momento da Milano è tutto, Paolo ti restituisco la linea. Grazie Giovanni, andiamo a Pavia da Luca Pattarini per gli ultimi aggiornamenti sul caso dell'ex assessore alla sicurezza del comune di Voghera, Massimo Adriatici. Nel fine settimana è stata nuovamente negata la richiesta di revoca degli arresti domiciliari per la morte di Juns e Bussettaui in piazza Meardi a Voghera. Oggi sono in programma nuovi appuntamenti. Luca, buongiorno, ti chiedo quali sono le ultime. Buongiorno Paolo, buongiorno ai nostri telespettatori. Si sta concludendo proprio in questi minuti l'incidente probatorio dei tre testimoni che hanno assistito a quanto è successo la sera del 20 luglio in piazza Meardi a Voghera. Si è deciso di fare questo incidente probatorio perché si tratta di soggetti che non hanno fissa dimora e che quindi potrebbero allontanarsi prima del processo. Per questo motivo si è deciso di ascoltarli per cristallizzare un po' la loro testimonianza. Alcuni di loro, ve lo ricorderete, già nei momenti immediatamente successivi al fatto avevano dichiarato che avevano visto l'assessore sparare dopo aver ricevuto il pugno da Bussettaui. Ovviamente vi daremo maggiori dettagli su quello che è il contenuto della loro testimonianza dell'incidente probatorio qui in tribunale a Pavia come ricordavi giustamente tu Paolo nel fine settimana è arrivata l'ennesimo rifiuto di liberazione per quanto riguarda l'ex assessore Adriatici i cui avvocati avevano appunto chiesto la revoca dei domiciliari per sostanzialmente per la giudice rimangono indizi di colpevolezza e quindi non sono emerse novità tali per cui Adriatici potrebbe insomma vedere terminato questo provvedimento, questi arresti domiciliari. Certo è che gli arresti domiciliari se non dovesse venire modificato il capo di imputazione che al momento è cesso colposo di legittima difesa potrebbero comunque scadere tra pochi giorni insomma che il capo di imputazione venga modificato l'hanno chiesto già più volte gli avvocati della famiglia per cercare appunto di portare l'accusa su un piano più grave quello dell'omicidio volontario staremo a vedere se così sarà in chiusura vi segnalo che anche gli avvocati della difesa hanno chiesto di poter visionare il filmato della telecamera di Piazza Meardi che per la procura di Pavia è inutilizzabile, i legali però hanno detto che da quella telecamera si sarebbe potuto di fatto vedere quanto è successo quella sera e fare insomma una, prendere così visione di tutto quello che è stato registrato dalle telecamere non solo da quella che appunto i cui filmati sono poi stati fatti circolare nei giorni immediatamente successivi al dramma. Per il momento da Pavia è tutto Paolo io ti restituisco la linea. Grazie Luca, passiamo alla politica con le conseguenze del voto amministrativo dello scorso fine settimana. Sono già state formate delle giunte, tra poco vedremo quella di Garlasco subito però la giunta del Salabissa a Milano. Sei al Partito Democratico, due alla lista civica Beppe Sala, uno a testa per verdi e riformisti e due a personalità tecniche. Le dodici poltrone della nuova giunta che accompagnerà Beppe Sala nei prossimi cinque anni sono state assegnate a sei uomini e sei donne e rispecchiano appieno i risultati elettorali anche se sui nomi qualche sorpresa c'è. Per il PD Marco Granelli, dato in uscita dopo due mandati, viene invece riconfermato tra i ministri della città anche se si sposta dalla mobilità per andare a occuparsi della sicurezza, ossia il posto lasciato libero dalla vice sindaca Anna Scavuzzo che riprende in mano le deleghe dell'istruzione. Gli altri quattro uomini e donne del Partito Democratico sono Pierfrancesco Marane, il candidato che in Italia ha preso più preferenze alle scorse amministrative, che dall'urbanistica si sposta sul dossier della Casa e dello sviluppo del piano quartieri, Arianna Censi, ex vice sindaca della città metropolitana e da oggi assessora alla mobilità, la giovanissima Gaia Romani che entra in giunta come assessora ai servizi civici e l'ex presidente del Consiglio Comunale, Lamberto Bertolè, nuovo assessore al welfare e alla salute. Come preventivato Emanuel Conte, il capolista della civica Beppe Sala Sindaco, prende in mano i cordoni della borsa di Palazzo Marino entrando all'assessorato al bilancio e al demanio, mentre la sua compagna di lista Martina Riva si accomoda sulla poltrona dello sport, del turismo e delle politiche giovanili. Per i riformisti al tavolo delle decisioni si siederà Alessia Cappello di Italia Viva che assume la carica di assessora al lavoro e allo sviluppo economico, mentre ai Verdi viene affidata la delega all'ambiente con la capolista Elena Grandi. I due tecnici infine sono Tommaso Sacchi che sostituirà Filippo Del Corno alla cultura dopo aver avuto lo stesso incarico a Firenze e Giancarlo Tancredi, già dirigente del comune, nominato assessore alla rigenerazione urbana. Il sindaco ha affermato che la delega alle pari opportunità verrà affidata in seguito a una delle donne che da oggi siedono al tavolo di giunta. È stata nominata la nuova giunta anche a Garlasco, poche ore fa l'annuncio ufficiale, il sindaco Molinari terrà per sé le deleghe al bilancio e al personale, vediamo come saranno distribuiti invece gli altri incarichi. È bastata meno di una settimana a neoletto sindaco di Garlasco Simone Molinari per annunciare la nuova giunta. Nel weekend sono state sbrigate le formalità burocratiche e nella serata di domenica è arrivato l'annuncio ufficiale. Quattro assessori, due uomini e due donne, Teresa Dallera, Isabella Panzarassa, Riccardo Tosi e Francesco Sant'Agostino. Due conferme, una promozione e una novità. Partiamo proprio da quest'ultima perché si tratta di un passaggio di consegne tra madre e figlia. Teresa Dallera, in quota Lega, è stata nominata vice sindaco e assessore a servizi sociali, cultura, pubblica istruzione, associazionismo, comunicazioni, trasporto e turismo. Succede nell'incarico di vice sindaco a sua madre, Giuliana Braseschi, ereditandone anche la maggior parte delle deleghe. La seconda novità in giunta è rappresentata da Riccardo Tosi, consigliere delegato a Commercio e Diventi nell'amministrazione uscente e ora ricoprirà lo stesso incarico ma in veste di assessore. A lui sono state affidate anche la polizia locale, la protezione civile e le attività produttive. Confermato ai lavori pubblici Francesco Sant'Agostino che però nei prossimi cinque anni avrà un'ulteriore delega pesante, quella all'urbanistica. Per l'esponente di Forza Italia anche l'incarico per lo sport. Conferma piena infine per Isabella Panzarassa che nella nuova giunta mantiene esattamente le stesse competenze degli ultimi cinque anni. Ambiente, ecologia, agricoltura, innovazione tecnologica e pari opportunità. Oggi è giornata di sciopero generale, coinvolti diversi settori, sembra però che al momento i disagi siano contenuti, perlomeno a Milano. Torniamo a collegarci in diretta con Giovanni Migone dei Amicis. Giovanni, a te. Sì, esattamente. Disaggi sembrerebbero essere contenuti per questo sciopero generale, questo sciopero nazionale indetto dai Cobas e dall'Unione Sindacale di Base, oltre a tutte le altre sigle del sindacalismo di base. Sciopero che avrebbe dovuto coinvolgere i trasporti in particolare, ma ATM, l'azienda dei trasporti milanesi, ha fatto sapere con una nota a metà di questa mattinata che la circolazione è regolare su tutte le linee, salvo ovviamente un po' di traffico per quanto riguarda quelle di superficie naturale, visto che molti milanesi probabilmente hanno scelto l'auto per evitare disagi sui mezzi pubblici, ma le linee metropolitane sono aperte a differenza di altre agitazioni del passato. Discorso simile anche per quanto riguarda il trasporto ferroviario, Trenitalia e Trenord fanno sapere che comunque esistono delle fasce di tutela del servizio che vanno dalle 6 alle 9 di questa mattina e andranno dalle 18 alle 21 di questa sera. Un po' più di disagi per quanto riguarda invece il trasporto aereo all'Italia, ha annunciato di aver cancellato ben 127 voli tra la giornata di ieri e la giornata di domani, quindi questa a tre giorni e come sempre in questi casi si è svolto il tradizionale corteo che accompagna uno sciopero generale che si è svolto in quasi tutte le maggiori città italiane e anche Milano non fa eccezione, un corteo che è partito dal centro della città ed è arrivato sotto la sede di Assolombarda vicino a Piazza Duomo perché proprio contro il governo Draghi e contro Confindustria si sono scagliate le proteste del mondo sindacale di base. Tra le richieste principali dei Cobas figurano la riduzione del tempo a parità di salario per contrastare la disoccupazione, un lavoro di qualità con l'introduzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato come norma di base, la parità salariale per le donne a parità di mansione e il no allo sblocco dei licenziamenti e alla sospensione del reddito per mancanza di Green Pass, questa è ovviamente la richiesta che più di tutte preoccupa i lavoratori che hanno aderito allo sciopero e infine anche la soppressione di appalti e subappalti, favorendo invece internalizzazioni interne alle aziende e in particolare al pubblico impiego. Insomma una giornata di sciopero che però non sembra aver toccato in maniera eccessiva in maniera troppo drastica la vita quotidiana dei milanesi. Per il momento da Milano è tutto, Paolo io ti restituisco la linea. Grazie Giovanni, noi rimbalziamo ancora su Pavia con Luca Pattarini perché si sono concluse a Tel Aviv in Israele le udienze per radiscutere dell'affidamento del piccolo Eitan, è iniziata l'attesa per le decisioni del giudice, ci saranno tempi lunghi perché poi ci saranno anche la possibilità di appelli. Luca come stanno le cose? E se è così Paolo, come hai giustamente spiegato tu, i tempi comunque slittano per quanto riguarda la sentenza. Ieri si è conclusa un'udienza a Fiume che è durata circa 12 ore, la terza del famoso trittico previsto per il fine settimana, venerdì, sabato e domenica nella quale sono stati sentiti alcuni testimoni, anche un esperto di diritto italiano. Adesso le parti potranno inoltrare le loro conclusioni alla giudice che avrà tempo appunto due settimane per emettere la sentenza, una sentenza che dovrà stabilire se il piccolo Eitan dovrà tornare immediatamente in Italia oppure no. Il certo è che da quello che si apprende da fonti legali che arrivano direttamente da Tel Aviv, entrambe le parti poi potranno fare appello contro la decisione del giudice, quindi anche qui bisognerà capire quali saranno i tempi tecnici per questo nuovo iter, insomma l'appello e capire che cosa poi succederà. Si basa tutto ovviamente, lo ricordiamo ancora una volta, su una richiesta esplicita della zia di Eitan Aia, su quella che è la convenzione dell'Aia che riguarda appunto la sottrazione internazionale di minori, per quanto riguarda invece il lato italiano del processo, c'è una nuova udienza il 22 ottobre, il programma il 22 ottobre per quello che è invece il ricorso dei nonni materni contro l'affidamento che è avvenuto qui in Italia di Eitan, proprio alla zia Aia e allo zio Or, Mirko. Insomma una serie di processi che si intrecciano, cercheremo di capire che cosa emergerà innanzitutto da Tel Aviv, dal tribunale di Tel Aviv, cosa sceglierà la giudice israeliana e poi ovviamente bisognerà capire anche dal fronte italiano se ci saranno delle novità. Per il momento è tutto però la linea può tornare allo studio Paolo. Grazie, grazie Luca. Oggi entra in vigore il nuovo provvedimento sulle riaperture che coinvolge soprattutto cinema e teatri che tornano con la capienza al 100%, c'è una grande soddisfazione da parte della categoria. Con l'aumento della capienza del 100% di musei, cinema e teatri i luoghi della cultura possono finalmente tornare alla normalità e di nuovo attrarre ospiti e visitatori senza più la regola del distanziamento di un metro. A festeggiare la notizia il Teatro Menotti di Milano, il primo teatro italiano a riaprire al pubblico i battenti dopo il primo lockdown. Una grandissima e bella notizia, che devo dire che è una notizia che ha anche un forte valore simbolico, perché comunque forse per la prima volta ci dà ai teatri questa patente di cinema, luoghi di cultura, di luoghi sicuri, che è una battaglia che noi stiamo facendo da diversi mesi, tutti noi, perché i teatri soprattutto sono luoghi assolutamente presidiati. Noi dall'inizio della pandemia, nelle poche finestre in cui i teatri sono stati aperti, che hanno sempre rispettato tutti i protocolli. Green pass obbligatorio, mascherine e aumento del personale, in modo tale che nonostante la capienza del 100%, il pubblico riacquisti di nuovo la fiducia per ritornare nelle sale. Il 100% è una notizia che soprattutto, io spero, convinca sempre di più il pubblico a venire a teatro, a frequentare i luoghi di cultura, perché facciamo i controlli ancora adesso della temperatura, facciamo i controlli delle green pass, come giusto che sia, abbiamo tenuto le distanze, quindi insomma abbiamo in maniera quasi maniacale rispettato tutte le regole. E rispettare le regole è un investimento economico di personale organizzativo che comunque ha pegnato anche i nostri bilanci, perché insomma abbiamo praticamente raddoppiato i personali di sala. Devo dire che noi abbiamo aperto il 23 settembre con uno spettacolo di grande impatto mediatico, di grande successo che è a NoGavity, abbiamo fatto 10 giorni di sold out. Quindi vuol dire che come noi abbiamo voglia di riprendere a fare teatro, anche il pubblico ha voglia di tornare a frequentare i teatri, i cinema e i luoghi di cultura. Ci vorrebbero da parte di tutti quelli che fanno questo lavoro degli incentivi, delle comunicazioni più mirate, più dirette sul tranquillizzare le persone. E prosegue anche la campagna vaccinale, unitamente chi ha deciso soltanto ora di somministrarsi al vaccino sta anche iniziando la campagna sulle terze dosi dopo i grandi anziani e gli ospiti delle RSA parte con questa settimana anche la somministrazione della terza dose ai sanitari, al personale sanitario che era stato vaccinato all'inizio dell'anno. Sono partite domenica 10 ottobre le iniezioni della terza dose booster di vaccino anti-coronavirus ai lavoratori della Sanità Lombarda che abbiano completato da almeno 180 giorni il ciclo vaccinale con la seconda dose o con la dose unica nel caso siano guariti dal Covid. Un intervallo abbondante trascorso per la gran parte di loro vaccinati per primi da fine dicembre 2020 insieme a personale e ospiti dell'RSA e obbligati a vaccinarsi dallo scorso primo aprile. La direzione welfare della regione ha confermato la partenza dei richiami a sei mesi per tutti gli operatori all'interno delle strutture di ricovero e cura e che si userà unicamente il vaccino Pfizer indipendentemente dal primo ricevuto a seguito della circolare del Ministero della Salute dell'8 ottobre di aggiornamento delle indicazioni sulla somministrazione della dose detta booster che se da un lato ha aperto al richiamo anche per i maggiorenni fragili a causa di una serie di patologie e agli ultra sessantenni dall'altro ha indicato che la terza dose a sei mesi deve essere a base di Pfizer dato che l'EMA sta ancora valutando i dati sull'efficacia dell'altro vaccino a mRNA moderna come booster. In Lombardia dalla scorsa settimana viene iniettato nell'RSA e agli ultraottantenni sempre che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultima dose. Intanto continuano le chiusure degli hub vaccinali in Lombardia tra gli ultimi a concludere le proprie attività di centro per i vaccini e il maxi hub vaccinale alla fiera di Abbiategrasso che dopo sei mesi di inoculazione chiude i battenti. Mauro Nespoli si è laureato nuovamente campione italiano di tiro con l'arco. Per il vogherese si tratta del terzo titolo tricolore. Nel fine settimana si sono svolti i campionati italiani assoluti a Verdello in provincia di Bergamo. Dopo l'argento e le Olimpiadi Nespoli si è ritrovato a disputare una finale molto combattuta contro il giovane Peter A, astro nascente dell'arco italiano. Nespoli ha vinto alla freccia di spareggio. Entrambi i finalisti avevano centrato il 9 ma poi i giudici hanno dovuto effettuare una misurazione con il compasso decretando la vittoria per un paio di millimetri. Non sono soddisfatto di come ho tirato ha detto a caldo Nespoli. Potevo chiudere la partita dopo il 4 a 0 invece ho dato la possibilità al mio avversario di raggiungermi. In giochi olimpici mi hanno tolto tante energie mentali e ho scarico. Comunque è stata una grande stagione. Ora guarda al futuro Nespoli. Parigi del 2024 è dietro l'angolo, ha detto, i mondiali di qualificazione sono vicini. Si sono disputati ieri. I giochi del quarantesimo paglio delle contrade divigevano. I giochi tornavano dopo un anno di assenza a causa della pandemia. La formula è stata leggermente modificata con bambini e adulti impegnati nella partecipazione insieme. La vittoria finale è andata alla contrada dei Santi San Crispino e Crispiniano che si è giudicata il cencio firmato quest'anno dall'artista Ale Puro. Non si è potuto svolgere il corteo storico per le vie cittadine causa difficoltà organizzative per la normativa anti-covid. Ma si è potuto comunque permettere l'ingresso di un migliaio di spettatori in castello per assistere alla disputa dei giochi. In chiusura torniamo sulla notizia del guato a Buccinasco in cui, lo ricordiamo, è morto un sessantenne pregiudicato in passato coinvolto in inchieste per il traffico di droga legato alla criminalità organizzata. Il nome della vittima è Paolo Salvaggio. È stato ucciso mentre era in bicicletta in via della Costituzione a sparare una persona che era giunta con un complice in motocicletta. Le ultime ci dicono, il collega Stefano Galimberti ci dice che sono ancora in corso i rilievi dei carabinieri sul posto. C'è anche una rappresentanza dell'amministrazione comunale un fatto che naturalmente ha scosso nuovamente la città di Buccinasco dove il problema della criminalità organizzata. Quindi si conferma essere molto presente. Ci fermiamo per il momento. Naturalmente tutti gli aggiornamenti su queste e le altre notizie nelle edizioni serali del telegiornale a partire dalle 19, mentre vi ricordo alle 18 l'appuntamento in diretta con Tu per Tu con. Buon proseguimento di giornata. Buon proseguimento di giornata. Buon proseguimento di giornata. Buon proseguimento di giornata.